La novità del 2021 è la Fiat Nuova 500, ecco le specifiche sui suoi contenuti tecnologici e sul rinnovato, ma sempre inconfondibile, design. Design interno della Fiat 500 elettrica 2021, vera piccola icona di stile della casa, nuova Fiat 500 2021 e full electric 100% made in Italy, espressione della futura mobilità urbana che si evolve in modo sostenibile, sin dal lancio è l'auto elettrica più venduta in Italia. Progettata con le medesime proporzioni stilistiche delle generazioni precedenti, la 500 elettrica si presenta con un design pulito e innovativo, disegnato dal centro stile con un focus su linee essenziali, evolute, sinuose ed eleganti. Internamente la City Car 100% Green offre più spazio ed è la prima vettura della casa equipaggiata con il nuovo sistema Infotainment. O-Connect 5 dall'interfaccia personalizzata e con il riconoscimento vocale che integra anche Alexa. Una curiosità, Fiat 500 elettrica durante le manovre emette la melodia che avete sentito nello spot pubblicitario, così da avvisare i passanti. Motori e prestazioni di Fiat 500 elettrica Fiat 500 elettrica 2021 offre di base un'autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP grazie alle batterie lithium-ion dalla capacità di 42K WH, per ottimizzare i tempi di carica è presente il sistema Fast Charger, che in 5 minuti garantisce una percorrerenza di 50 km. Le più prestanti sono le versioni Passion e Icon, dotate di una potenza di 87 kHz per un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 9 secondi, mentre la Action è equipaggiata con un e-motor da 70 kHz che va da 0 centesimi in 9,5 secondi garantendo un'autonomia di 180 km WLTP. Le modalità di guida proposte sono 3, Normal, Range, con funzione One Pedal Drive, e Sherpa, quella che riduce il più possibile il consumo energetico. Inoltre è la prima auto del suo segmento che offre la guida autonoma di livello 2, con velocità massima autolimitata a 150 km orari. Ricordate che oltre alla motorizzazione totalmente elettrica di cui abbiamo appena parlato resta all'istino librida leggera che garantisce, il 20% di risparmio medio sui consumi rispetto ai propulsori termici classici ed è spinta dall'1,03 cilindri Fire da 70 CV, in combinazione all'elettrico BSG da 12 Volt con batteria a litio da 11 A. Allestimenti e prezzi della nuova Fiat 500 elettrica Gli allestimenti all'istino per la Fiat 500 elettrica sono 3, Action, Passion e Icon. Come avete letto, queste versioni si distinguono per estetica, dotazione e schema propulsivo, dato che la Action monta batteria più piccola. I prezzi. Da 15.900 euro eco bonus e rottamazione inclusi, cioè meno della versione Laon del tradizionale benzina. Senza incentivi, il prezzo base per la Fiat 500 elettrica parte invece da 26.150 euro. Una curiosità, in futuro si attende l'erede della Panda Van, famosa come auto della SIP, pre-telecom Italia. Nella gamma Fiat, infatti, dovrebbe tornare una piccola auto pensata per il lavoro basata proprio sulla nuova 500 elettrica, con due posti e tanto spazio dietro, con gli stessi powertrain dell'attuale sorella a tre porte.